In un commento mi sono chiesto di parlare di Simula, che è passata la storia come il primo linguaggio di programmazione orientato agli oggetti. E allora mi sono chiesto perché parlare solo di Simula e non parlare della storia della programmazione ad oggetti. Per parlare della storia della programmazione ad oggetti dobbiamo fare un passo indietro nel 1961, dove era un periodo storico molto turbolento e dove i due blocchi, quello democratico occidentale e quello socialista orientale, si guardavano molto male. Ad Oslo, capitale della Norvegia, e più precisamente al Norsk Ragncentral, ovvero il centro informatico norvegese, i due ricercatori Ole Johan Dahl e Christian Nigard stavano lavorando a un linguaggio di programmazione che si chiamava Simula. A loro serviva un linguaggio di programmazione che potesse aiutarli nel gestire le simulazioni, tipo quelle circuiti integrati, algoritmi e protocolli di comunicazione. E quindi si sono rimborcate le maniche e nel 1965 hanno fatto la prima versione di Simula programmata in Algolo 60 per l'Univac. Di fatto, la prima versione di Simula faceva quello che era programmato per fare, ovvero simulazioni, ma questo non lo rendeva general purpose, ma in realtà lo rendeva specifico per una determinata applicazione, ovvero quella delle simulazioni. Nonostante ciò, loro trascorsero gli anni successivi a insegnare Simula in tutto il mondo. E infatti Simula iniziò ad avere un discreto successo, e infatti venne pure implementato in altri computer, tipo l'Ural 16 dei sovietici. Ma la vera svolta ci fu nel 1966, che la vediamo dopo la sigla. Benvenuti e bello delle pinguine in questo nuovo video di FK Storia. Io sono Valerio e oggi parliamo della storia della programmazione di oggetti. Ma prima di cominciare, vi vorrei ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, così da rimanere sempre aggiornati per altri video che porto su questo canale. E inoltre, come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram, qui sotto troverete il mio tag, e quindi non perdiamo i cinghiacchiere e vediamo come nacque la programmazione di oggetti. I nostri due eroi norvegesi, nel 1966, incontrarono Tony Oare, informatico britannico che di programmazione ne capiva un pochettino di più. E infatti li introdusse al concetto di record. Concetto che oggi non diamo per scontato, ma all'epoca non lo era. Per quelli di voi che ne capisco di programmazione, mi sto riferendo a quello che in un linguaggio di programmazione come SI troviamo sotto la forma di struct. I record sono delle strutture dati che permettono di memorizzare i dati di diverso tipo. Questo permette di raggruppare dati che logicamente devono stare insieme, e permette ai programmatori di utilizzarli tutti insieme, o di accedere a ognuno dei componenti del record all'occasione. Facciamo un esempio pratico per tutti coloro che non hanno esperienza di programmazione, o si stanno avvicinando adesso alla programmazione. Supponete che siete allo stato di Zamunda e che volete tenere traccia di tutte quelle persone che hanno contratto quel famosissimo virus che ci ha costretti a casa per quasi due anni. E allora vi fate il vostro bellissimo foglio Excel in cui tenete questa informazione, tipo il nome del paziente, data di nascita, data test positivo, data test negativa. se il paziente è stato ospedalizzato e magari un campo libero con delle note. E man mano che i casi positivi arrivano, voi riempite questo foglio Excel riga per riga. Benissimo, ogni riga è un record. E anche nel mento del record, che lo possiamo vedere come ogni colonna di questa tabella, contiene tipi di dato diversi, tipo abbiamo delle date, abbiamo dei testi, abbiamo dei booleani e così via. Ora sicuramente qualcuno scriverà nei commenti, criticandomi, dicendomi, ma chi userà nel 2022 un foglio Excel per tenere traccia delle persone che hanno contratto il virus più lotale del secolo? Il governo britannico! Ora, se siamo uno stato un po' più serio, al posto di utilizzare uno stupido foglio Excel, ci creiamo un bel programmino in cui tra le altre strutture date avremo un record che raccoglie le informazioni di ogni paziente. E comunque, per far felici il governo britannico, magari mettiamo in questo nostro programma una piccola funzione che esporta tutti i record in un foglio Excel e un borsi Johnson muto. Quella che fecero i nostri noi norvegesi fu quella di prendere l'idea del record ed estenderla aggiungendo procedure all'interno dei record. Boom! Nacque la programmazione orientata agli oggetti. Alla base della programmazione dei dati di oggetti c'è la classe, che praticamente mette insieme i metodi, ovvero le procedure, e gli attributi, ovvero i dati, in un'unica entità. Proprietà e metodi non sono altro che gli ingredienti principali che costituiscono la base di un oggetto. Ora, quali potrebbero essere dei metodi nel nostro contesto di tenere traccia delle infezioni? Beh, per esempio, quello di calcolare la durata dell'infezione, partendo dalla data test positivo e test negativo. E quindi i nostri eroi implementarono questo nuovo paradigma all'interno di Simula, facendone una nuova versione chiamata Simula67, che non solo aveva gli oggetti, ma aveva anche altre migliorie che rendevano Simula67 un linguaggio di programmazione general purpose. Ole John Andal e Christian Nygaard hanno scritto tutto in un articolo scientifico che è possibile trovare tuttora online e che vi lascerò il link in descrizione. La cosa pazzesca è che le fondamenta della programmazione in data d'oggetti come implementate in Simula sono tuttora utilizzati e sono stati infatti implementati in tantissimi altri linguaggi di programmazione a seguire, come Smalltalk, Lisps, per non parlare di Objective-C e C++. E infatti negli anni 90 la programmazione in data d'oggetti era il paradigma di programmazione dominante e io penso che lo sia tuttora. Basti pensare che negli anni 90 fu inventato Java che dovrebbe essere l'apoteosi della programmazione orientata ad oggetti. Apoteosi sto c***o. Tuttavia non è ora tutto quel che luccica, perché la programmazione in data d'oggetti è stata oggetto, scusate il gioco di parole, di pesanti critiche negli anni passati. Piccola disclaimer, tutto quello che andrò a leggere adesso non è ovviamente il mio pensiero, ma quello di ricercatori nell'ambito della programmazione. Però se volete sentire il mio pensiero, lo dirò successivamente. Intanto andiamo a vedere quello che dicono gli altri. Luca Cardelli, professore di Oxford, nel 96 disse che la programmazione in data d'oggetti rendeva in realtà le cose molto più complicate e non così modulari come i dettami da programmazione in data d'oggetti millantavano. Eric Raymond, uno dei programmatori di Unix, ha criticato tutti quelli che dicevano che la programmazione in data d'oggetti è la vera soluzione. Ma che cazzo è una setta? Rendendo in realtà i programmi stratificati pesante da leggerli, annullando quindi la trasparenza. E io penso che questo potrebbe essere uno dei motivi per cui il linguaggio di programmazione sì, tutt'oggi, non ha gli oggetti. Joe Armstrong, ideatore di Erlang, disse che la programmazione in data d'oggetti ti mette in un programma tutta una roba pesantissima. Lui fa questa analogia. Se ti serve una banana, ti ritrovi con un gorilla con una banana in mano all'interno di una giungla. Certo, qualcuno potrebbe dire d'accordo, la programmazione in data d'oggetti potrebbe avere degli svantaggi, ma tuttavia ti permette di scrivere del codice molto più rapidamente. E in realtà è stato dimostrato di no. Nel 99, uno studio fatto da Potok e i suoi colleghi ha dimostrato che non c'è nessuna differenza in termini di produttività di scrivere un codice utilizzando la programmazione in data d'oggetti piuttosto che un codice scritto in maniera procedurale. Adesso, queste critiche sono vere? Secondo me sì, perché sono dette da scienziati e da persone che lavorano nell'ambito della programmazione. Loro fanno compilatori o interpreti per lavoro. E in particolare io mi ricordo che ho fatto un programma in MATLAB per fare delle robe e poi, poiché questo programma funzionava bene, l'ho riscritto utilizzando la programmazione in data d'oggetti ed era diventato di una lentezza mostruosa. Ora, certo, qualcuno potrebbe dire che MATLAB è una m***a che ti mette a fare i programmi in MATLAB e ci devo fare il dottorato. Però una cosa simile potrebbe accadere in altri linguaggi di programmazione. Personalmente, a me la programmazione in data d'oggetti piace moltissimo e io da programmatore continuerò a utilizzarla quando e dove mi serve. L'unica critica che posso muovere alla programmazione in data d'oggetti è che viene molto spesso molto difficile da capire a tutti coloro che si avvicinano alla programmazione. Vedo molte persone che fanno fatica a capire il concetto di oggetto, di istanza, di chiamare un metodo. Questa è personalmente l'unica critica che mi permetto di muovere verso questo paradigma di programmazione. Ma tuttavia, almeno per me, forse, come dicevo in questo video, ho acquisito delle ottime capacità dal punto di vista del pensiero computazionale. Per me è una m***a. Nel senso che è facilissimo da capire. Magari dovrei utilizzare Lucilla come cavio da laboratorio. Benissimo, Pinguini. Questo è tutto quello che c'è da sapere sulla storia della programmazione orientata ad oggetti. Ma aspettate, ma che fine ha fatto Simula? Beh, l'ultimo standard è stato rilasciato in 87, che includeva, tra le altre cose, proprietà e metodi protette, private e pubbliche. Ad oggi si trovano quattro compilatori, di cui abbiamo GNU Sim, che l'ultima volta che è stata aggiornata, da cui ho capito, è stato nove anni fa, e poi abbiamo Portable Simula, che è scritto in Java e permette di compilare roba in Simula in Java bytecode, che, a dispetto di GNU Sim, è stato aggiornato molto più di recente, esattamente due settimane fa, da quando sto registrando ovviamente questo video. Benissimo, per oggi è tutto. Io vi ringrazio molto per l'attenzione e vi rimando sempre agli attrito che porto su questo canale, nella fattispecie quella della Code Academy. Quindi, grazie per essere stati qui fino a questo punto e ci vediamo alla prossima. Ciao, Kilo! Ciao, Kilo!